Il folletto del Kentucky è una creatura criptozoologica che abiterebbe la Mammoth Cave, nello stato americano del Kentucky. I primi avvistamenti risalgono al XIX secolo e da allora centinaia di persone avrebbero visto la creatura. Le descrizioni dei goblin del Kentucky variano, ma in genere vengono descritti come creature piccole e pelose con grandi occhi luminosi. Alcuni riferiscono che sono alti fino a 1,5 metri, mentre altri sostengono che sono molto più piccoli. Gli abitanti del luogo hanno dichiarato di aver assistito alla creatura. Queste presunte interazioni avvenivano di solito di notte, quando il folletto del Kentucky lasciava il suo nascondiglio nelle profondità della grotta per aggirarsi nel paesaggio circostante del parco. Il folletto del Kentucky è raffigurato come un animale dispettoso che fa scherzi agli esseri umani o ruba cibo e altri oggetti. Un gruppo di esploratori della grotta nel 1890 ha riferito di aver visto una piccola creatura con grandi occhi luminosi. Secondo quanto riferito, è scappata quando hanno cercato di spararle. Nel 1908 un uomo di nome John T. Collins affermò di aver visto una creatura alta un metro e mezzo con occhi rossi. Questa è fuggita quando ha acceso una lanterna e l'ha puntata contro il folletto. Un gruppo di bambini disse di aver visto la creatura giocare con una palla luminosa nelle grotte di Mammoth nel 1955. I ragazzi sarebbero fuggiti spaventati quando la creatura li ha visti. Nel corso degli anni, gli incontri con il folletto del Kentucky sono diventati parte della tradizione locale. Tuttavia l'autenticità di questi racconti è circondata da scetticismo. Alcuni sostengono che siano stati inventati per attirare i turisti e conferire un'aria di mistero alla zona. Altri sospettano che fenomeni naturali, come formazioni rocciose insolite o altri animali, possano essere stati fraintesi come incontri con la creatura ultraterrena. Data la loro estensione e i numerosi misteri inesplorati, le grotte di Mammoth offrono uno scenario perfetto per queste leggende. Il buio pesto e gli intricati labirinti di gallerie possono facilmente alimentare l'immaginazione, scatenando storie di esseri nascosti che dimorano nelle sue profondità.